Questa sera al Nautilus Club di Milano non mancano i festeggiamenti, abbiamo visto tante tante artiste per la nostra Sebil, tante amiche che sono venute qui per festeggiare il suo compleanno, ma i festeggiamenti non sono finiti. La nostra Jamile e la nostra Anna questa sera compiono gli anni, quindi noi del piccolo magazine facciamo tanti cari auguri anche a loro. Come è stata allora la serata all'altezza delle aspettative? Una serata pazzesca, tutte le mie amiche sono venute a far spaccare il palco, sono felicissima, sono fiera di loro, voglio tanto bene a tutti quanti, buon compleanno Sebil, buon compleanno Michela, vi voglio bene a tutti. È stato un onore festeggiare qua, è stata una festa bellissima, veramente bellissima, ringrazio tutti perché è stato veramente emozionante. Anna sappiamo che tu ti occupi dell'hairstyle di Sebil, la parrucchiera ufficiale, com'è avere Sebil come cliente? È bello, è bello, è un po' fantasiosa, ogni volta vuole cambiare look però diciamo che cerco di portarla sulla retta via, però no è un onore, è bellissimo vederla ballare con quello che creo io, mi piace. Immagino deve essere un lavoro difficile ma soddisfacente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sebil, due parole sulla vostra amicizia e poi ci salutiamo. Io, sinceramente, l'amicizia è universale, sempre direi, io mi trovo da qua tantissimi anni, sono accolta, sono stata adottata, questa è la mia casa, e mi sento bene ogni volta che vengo do il mio, anche se a volte mi manca l'aria, però è questa la parte dell'ospedale. È la nostra famiglia, è la nostra famiglia. Certo. Noi vi ringraziamo per la chiacchierata, ancora tantissimi auguri. Grazie. Grazie.